Nell'angolo Spissu da tre punti, Assegno va a realizzare Messa al fondo per Spissu che è libero, Varese è andata a zona e Spissu l'ha punita subito con la tripla del 22 a 14 Varnè di nuovo per Spissu, frontale da tre, Marco Spissu Ancora Spissu con il fallo dall'arco dei 6.75, indemoniato